Ciao a tutti e benvenuti in Puglia! Oggi prepariamo insieme un piatto tipico pugliese Le melanzane ripiene Un piatto che veramente racchiude in sé tutto il profumo e il sapore dell'estate Volete vedere come prepararle? Seguitemi! Per realizzare la nostra ricetta iniziamo dalle melanzane Le laviamo e le spuntiamo Quindi le dividiamo a metà Pratichiamo un taglio tutto intorno così Estraiamo la polpa con l'aiuto di un cucchiaio Scaviamo bene fino ad ottenere, come diceva Nonna Maria, le nostre coppette Prepariamo il sugo In una pentola aggiungiamo l'olio e uno spicchio d'aglio E lasciamo soffriggere dolcemente E aggiungiamo tanto basilico Lasciamo cuocere Lasciamo cuocere Se abbiamo lasciare un rapido di un po' 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 di qualche Wow! A presto. Allora potete strizzare le melanzane sia con le mani oppure con un panno come faceva mia nonna. Quindi prendere le melanzane che sono state in ammollo e metterle in un panno così. Arrotolare per bene così e strizzare così. Vedete? Soffriggiamo le melanzane e aggiustiamo di sale e pepe. E nel frattempo friggiamo le coppette. Tagliamo la mortadella e lo spizzero. Soffriggiamo. Alziamo la melanzana facendo cadere l'olio in eccesso. Soffriggiamo. 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 Le nostre melanzane ripiene sono cotte, adesso andiamo ad impiattarle. Grazie a tutti per aver seguito anche questa videoricetta, alla prossima, aspetto le vostre melanzane ripiene, ciao!